per questo invito e lo faccio io però a nome di tutti gli ospiti che sono qui come la Chiesa, Geno Cabuti e tutti gli ospiti che sono stati invitati questa sera avevo preparato un discorso tipo Fidel Castro di sei ore però il Presidente mi ha detto no un po' meno allora vorrei dire solo che il fatto di essere il Presidente del Paraclion International è addirittura un mestiere perché un mestiere? perché lo faccio quasi al 100% del mio tempo diciamo 80% così il resto del tempo un po' di tempo con mia moglie e un po' con il cane a volte con le due ma no è veramente un mestiere è un mestiere che ci riserva alcune sorprese ma la stragrande maggioranza di queste sorprese sono felici